Il giornalismo culturale del Molise tra inchieste, reportage e documenti inediti è il focus che ha caratterizzato il recente appuntamento formativo promosso dall'Ordine dei giornalisti regionale. L'iniziativa didattica, con una valenza di quattro crediti nel percorso di formazione e aggiornamento di pubblicisti e giornalisti, si è tenuta a Bagnoli del Trigno, nella sala convegni del Santuario della Madonna di Fatima. C'è un futuro per il giornalismo culturale in Molise? È una delle impegnative domande a cui hanno provato a rispondere gli autorevoli relatori intervenuti, tra questi la naturalista e biologa, scrittrice e giornalista Gioconda Marinelli. Il giornalismo culturale, come è stato ben precisato in questo convegno interessantissimo, è fondamentale, è soprattutto legato al territorio, è soprattutto legato al Molise in questo caso, perché il Molise va ancora ben apprezzato, conosciuto, appunto ci si domanda, ma il Molise esiste? Certo che esiste, solo a vedere le bellezze della natura, l'archeologia, la storia, le tradizioni, e queste vanno valorizzate al massimo e fatte conoscere a fondo. Quindi diamoci da fare, noi che abbiamo queste origini bellissime a cui teniamo tanto e che non dimenticheremo mai, siamo molisani e siamo orgogliosi di esserlo, quindi diamoci da fare a farlo conoscere anche agli altri. E noi che abbiamo la penna in mano, gli strumenti per poterlo fare, facciamolo bene come si deve, ricordiamoci i grandi nomi del giornalismo culturale, prendiamo un esempio, e come io sempre dico, leggiamo, leggiamo e poi scriviamo, quindi approfondiamo sempre tutto.